Ragazzi dite qualcosa alla stampa per cortesia Ma sorridi, fai finta di niente, vai L'hai scattata? Fatte? Fatte più di una Che emozione, all'Italia Grazie per averci scelti Arrivederci Evviva Sono felicissime di questo video dopo 12 ore di pollo Dopo neanche averci lavato la faccia Tu ovviamente lo modificherai e cancellerai le rughe, vero? Certo Ci farai apparire riposati Dopo questo viaggio Perché non inquadri te? Vieni, vieni che ti inquadro io Vieni, vieni